Le grandi meraviglie del sacerdozio di Cristo che ha offerto se stesso una volta per sempre per il perdono dei peccati adesso intercede per noi davanti al Padre e tornerà per portarci con lui. Sono le tre tappe del sacerdozio di Cristo messe in risalto dal Papa nell'odierna omelia della messa mattutina a casa Santa Marta. Francesco avverte però che c'è l'imperdonabile bestemmia, quella contro lo Spirito Santo. Il fenomeno mafioso da osteggiare e da combattere è espressione di una cultura di morte che si oppone radicalmente alla fede e al Vangelo. Così il Papa ha rivolto ai 40 membri della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ricevuti stamani in Vaticano. Non vi scoraggiate, continuate a lottare contro la corruzione e la violenza, li ha sollecitati, sottolineando che il denaro insanguinato dei delitti mafiosi produce un potere iniquo. Papa Francesco ha dedicato l'allocuzione domenicale prima dell'Angelus di ieri al brano del Vangelo della terza domenica del tempo ordinario che racconta l'inizio della predicazione di Gesù in Galilea. È il rito conclusivo del Giubileo dedicato agli 800 anni dalla nascita dei frati domenicani, la messa che sabato pomeriggio il Papa ha celebrato nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Un'occasione speciale per rendere gloria al Padre ha detto nell'Omelia Francesco per un'opera che ha aiutato uomini e donne a non disperdersi nella superficialità mondana ma a sentire il gusto del Vangelo diventando artigiani di opere buone. Nel sacerdozio di Cristo ci sono tre grandi meraviglie. L'offerta di se stesso una volta per sempre per il perdono dei peccati, l'intercessione per noi davanti al Padre e il suo ritorno alla fine per portarci con Lui. Sono le tre tappe del sacerdozio di Cristo sottolineate da Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, commentando il brano della lettera agli ebrei inserito nella liturgia del giorno. C'è questa grande meraviglia, questo sacerdozio di Gesù in tre tappe, quello che perdona i peccati una volta per sempre. Quello che intercede adesso per noi è quello che succederà quando Lui torni. Ma anche c'è il contrario, l'imperdonabile bestemmia. E' duro sentire Gesù dire queste cose, ma Lui lo dice e se Lui lo dice è vero. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli delle uomini. Noi sappiamo che il Signore perdona tutto se noi apriamo un po' il cuore su tutto. I peccati e anche tutte le bestemmie che diranno, anche le bestemmie saranno perdonate. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno. E' una bestemmia sul fondamento dell'amore di Dio che è la redenzione, ha spiegato il Papa. E chi dice queste cose è chiuso al perdono. Non si lascia perdonare perché rinnega l'unzione sacerdotale di Gesù fatta dallo Spirito Santo. Lottare contro mafia, camorra e andrangheta che, sfruttando carenze economiche e sociali e politiche, trovano un terreno fertile per realizzare i loro deplorevoli progetti e lottare contro il terrorismo, sempre più cosmopolita e devastante. Un'attività certo difficile e rischiosa, ha sottolineato Francesco, quanto mai indispensabile per il riscatto e la liberazione dal potere delle associazioni criminali che si rendono responsabili di violenze e sopraffazioni macchiate da sangue umano. La società ha bisogno di essere risanata dalla corruzione, dalle estorsioni, dal traffico illecito di stupefacenti e di armi, dalla tratta di esseri umani, tra cui tanti bambini ridotti in schiavitù. Sono autentiche piaghe sociali e al tempo stesso sfide globali che la collettività internazionale è chiamata ad affrontare con determinazione. Quindi raccomandazione particolare, dedicare ogni sforzo, specialmente nel contrasto della tratta di persone e del contrabbando dei migranti. Questi sono reati gravissimi che colpiscono i più deboli fra i deboli. Per questo, ha aggiunto Francesco, occorre tutelare meglio le vittime in cerca di pace e di futuro, offrendo loro assistenza legale e sociale. Ma accanto alla preziosa opera di repressione del crimine, ha osservato il Papa, occorrono interventi educativi di ampio respiro, da parte di famiglie, scuole, comunità cristiane, realtà sportive e culturali, chiamate a favorire una coscienza di moralità e di legalità orientata a modelli di vita onesti, pacifici e solidali, che a poco a poco vincano il male e spiano la strada al bene. Il pensiero del Papa è corso anche all'encomiabile lavoro sul territorio di tante parrocchie e associazioni cattoliche per estirpare dalla radice la mala pianta del della criminalità organizzata e della corruzione e alla vicinanza della Chiesa a quanti hanno bisogno di aiuto per uscire dalla spirale della violenza e rigenerarsi nella speranza. Infine, l'invocazione perché uomini e donne delle diverse mafie si fermino, smettano di fare il male, si convertano e cambino vita. Il pensiero di Papa Francesco dopo la preghiera mariana dell'Angelus è andato alle popolazioni dell'Italia centrale, messe ancora a dura prova dal terremoto e dalle forti nevicate che stanno rallentando i soccorsi nelle zone colpite, in particolare in Abruzzo. Sono vicino con la preghiera e con l'affetto alle famiglie che hanno avuto vittime tra i loro cari. Incoraggio quanti sono impegnati con grande generosità nelle opere di soccorso e di assistenza, come pure le chiese locali, che si prodigano per alleviare le sofferenze e le difficoltà. Grazie tante per questa vicinanza, per il vostro lavoro e l'aiuto concreto che portate. grazie e vi invito a pregare insieme la Madonna per le vittime. e anche per quello che con grande generosità si impegnano nelle opere di soccorso. Le parole di Papa Francesco prima della preghiera dell'Angelus di ieri sono state incentrate sulla pagina evangelica che racconta l'inizio della predicazione di Gesù in Galilea, una terra abitata in massima parte da pagani, geograficamente periferica rispetto a Gerusalemme e religiosamente impura per la mescolanza con quanti non appartenevano a Israele. Dalla Galilea non si attendevano certo grandi cose per la storia della salvezza. Invece, proprio da lì, dalla periferia, si diffonde la luce di Cristo. Il messaggio di Gesù ricalca quello del Battista, annunciando il Regno dei Cieli. Questo Regno non comporta l'instaurazione di un nuovo potere politico, ma il compimento dell'Allianza tra Dio e il suo popolo, che inaugurerà una stagione di pace e di giustizia. Per stringere questo patto di alleanza con Dio, ognuno è chiamato a convertirsi, trasformando il proprio modo di pensare e di vivere. È importante questo. Convertirsi non è soltanto cambiare il modo di vivere, ma anche il modo di pensare e una trasformazione del pensiero. Non si tratta di cambiare gli abiti, ma le abitudini. Ciò che differenzia Gesù da Giovanni il Battista, ha osservato il Papa, è lo stile e il metodo. Gesù sceglie di essere un profeta itinerante. Non sta ad aspettare la gente, ma si muove incontro ad essa. Gesù sempre è per la strada. Le sue prime uscite missionari avvengono lungo il lago di Galilea, a contatto con la folla, in particolare con i pescatori. Lì Gesù non solo proclama la venuta del regno di Dio, ma cerca i compagni da associare alla sua missione di salvezza. Qui incontra due coppie di fratelli, Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. Sono pescatori, stavano lavorando. Gesù li invita a seguirlo. La chiamata li raggiunge nel pieno della loro attività di ogni giorno. Il Signore si rivela a noi non in modo straordinario o eclatante, ma nella quotidianità della nostra vita. Lì dobbiamo trovare il Signore e lì Lui si rivela, fa sentire il Suo amore al nostro cuore. e lì, con questo dialogo con Lui nella quotidianità della vita, si cambia il nostro cuore. La risposta dei quattro pescatori è immediata e pronta. Subito lasciarono le retti e lo seguirono. Noi, cristiani di oggi, ha proseguito il Papa, abbiamo la gioia di proclamare e testimoniare la nostra fede perché c'è stato quel primo annuncio, perché ci sono stati quegli uomini umili e coraggiosi che hanno risposto generosamente alla chiamata di Gesù. Sulle rive del lago, in una terra impensabile, è nata la prima comunità dei discepoli di Cristo. Dopo la preghiera mariana, il Papa ha ricordato che nell'estremo oriente e in varie parti del mondo milioni di uomini e donne si preparano a celebrare il capodanno lunare il 28 gennaio e ha rivolto loro il suo fraterno augurio. Serve un nuovo catecumenato che prepari al matrimonio antidoto al moltiplicarsi di celebrazioni matrimoniali nulle. È l'auspicio ribadito anche quest'anno da Papa Francesco nel discorso al Tribunale Apostolico della Rota Romana. Giudici, ufficiali, avvocati e collaboratori del Tribunale sono stati ricevuti sabato mattina nella tradizionale udienza per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Due i capisaldi che il Papa ha segnalato per aiutare oggi gli sposi, una formazione efficace prima del sacramento e dopo l'accompagnamento da parte della Chiesa. Un contesto carente di valori religiosi ha spiegato non può non condizionare anche il consenso matrimoniale. Diverse fra loro sono infatti le esperienze di fede di chi chiede il sacramento, da chi partecipa attivamente alla vita della parrocchia, a chi è guidato da un generico sentimento religioso fino a chi è lontano dalla fede. Quindi, prima di tutto, per quanto riguarda la preparazione al sacramento, il Papa ha chiesto che vi sia un nuovo catecumenato ad hoc. Il Santo Padre ha auspicato che la preparazione sia anche una vera e propria occasione di evangelizzazione degli adulti e dei cosiddetti lontani. L'approssimarsi delle nozze per molti giovani costituisce infatti l'occasione per incontrare di nuovo la fede magari relegata ai margini della loro vita anche perché stanno vivendo un particolare momento in cui sono disposti a cambiare l'orientamento della loro esistenza. Il secondo caposaldo per Francesco è quello della formazione permanente. La comunità cristiana è quindi chiamata ad accompagnare le giovani coppie con strumenti adeguati a partire dalla partecipazione alla messa domenicale per curare la vita spirituale sia nella parrocchia sia nelle aggregazioni. Bisogna far sentire alle giovani coppie che nonostante le fatiche e le povertà con cui devono misurarsi nella vita quotidiana la loro storia d'amore è parte della storia sacra perché Dio non viene mai meno all'impegno che ha assunto con gli sposi il giorno delle nozze. I parroci sono quindi chiamati ad essere sempre più consapevoli del delicato compito loro affidato nel gestire il percorso dei futuri sposi rendere comprensibile il legame fra il patto e la fede. è il rito conclusivo del giubileo dedicato agli 800 anni dalla nascita dei fratti Domenicani la messa che sabato pomeriggio il Papa ha celebrato nella Basilica di San Giovanni in Laterano una celebrazione storica simbolica piena di emozione quella che in qualche modo ha rievocato il 21 gennaio del 1217 quando con una bolla pontificia proprio in Laterano dove risiedeva Onorio III confermava definitivamente in seno alla Chiesa Cattolica la nascita dell'ordine dello spagnolo San Domenico di Guzman un piccolo drappello di frati oggi una immensa famiglia che si ritrova attorno al suo pastore e per bocca del maestro Fra Bruno Cadore gli rinnova la propria comunione e chiede conferma nel cammino della predicazione in ogni epoca oggi come ai tempi di San Domenico come duemila anni fa quando l'apostolo Paolo scriveva al discepolo Timoteo ha osservato il Papa commentando la parola di Dio la vita si muove tra due scenari umani opposti il carnevale della curiosità mondana e la glorificazione del Padre mediante le opere buone Paolo averte Timoteo che dovrà annunciare il Vangelo in mezzo a un contesto dove la gente cerca sempre nuovi maestri favole dottrine diverse ideologie priurentes auribus e il carnevale della curiosità mondana della seduzione per questo l'apostolo istruisce il suo discipolo usando anche dei verbi forti insisti ammonisci rimprovera esorta e poi vicila sopporta le sofferenze oggi questo scenario ha detto Francesco si è molto sviluppato e globalizzato a causa della seduzione del relativismo soggettivista la tendenza alla ricerca di novità propria dell'essere umano trova l'ambiente ideale nella società dell'apparire nel consumo in cui spesso si riciclano cose vecchie ma l'importante è farle apparire come nuove attraenti accattivanti anche la verità è truccata ci muoviamo nella cosiddetta società liquida senza punti fissi scardinata sbulonata prima dei riferimenti solidi e stabili nella cultura dell'effimero dell'ussa e getta ma c'è uno scenario opposto a questo carnevale mondano che il Papa ha indicato citando il Vangelo di Matteo e la glorificazione del Padre che è nei Cieli dalla superficialità pseudo festosa si passa alla glorificazione che è vera festa ha aggiunto Francesco grazie alle opere buone di coloro che diventano discepoli di Gesù sono diventati sale e luce in mezzo al carnevale di ieri e di oggi questa è la risposta di Gesù e della Chiesa questo è l'appoggio solido in mezzo all'ambiente liquido le opere buone che possiamo compiere grazie a Cristo e al suo Santo Spirito e che fanno nascere nel cuore il ringraziamento a Dio Padre la lode o almeno la meraviglia e la domanda perché perché quella persona si comporta così cioè l'inquietudine del mondo di fronte alla testimonianza del Vangelo guai dunque ha munito il Papa alla Chiesa o a un consacrato o a una congregazione che perda il sapore non servirebbe più a niente così è stato per San Domenico che pieno della luce del sale di Cristo ha servito il Vangelo con la parola e la vita rendiamo gloria al Padre per la sua opera un'opera che con la grazia dello Spirito Santo ha fatto sì che tanti uomini e donne siano stati aiutati a non disperdersi in mezzo al carnevale della curiosità mondana ma invece abbiano sentito il gusto della sana dottrina il gusto del Vangelo e siano diventati artigiani di opere buone e veri fratelli e sorelle che glorificano Dio e insegnano a glorificare Dio con le buone opere della vita sabato mattina nella cappella urbano ottavo in Vaticano sono stati presentati al Papa due agnelli benedetti nella stessa mattina nella Basilica di Sant'Agnese in via Nomentana nel giorno in cui la chiesa ricorda questa santa romana vergine e martire del terzo secolo la lana di questi agnelli sarà utilizzata per confezionare i palli dei nuovi arcivescovi metropoliti il pallio è una fascia di stoffa tessuta in lana bianca decorata da sei croci in seta nera che viene indossata dal Papa e dagli arcivescovi è simbolo del vescovo che come buon pastore porta l'agnello sulle spalle e ricorda anche l'agnello crocifisso per la salvezza degli uomini è segno della comunione degli arcivescovi con la sede apostolica il rito della benedizione dei palli è compiuto dal Santo Padre il 29 giugno nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo verranno poi imposti dai nunzi apostolici agli arcivescovi nelle loro sedi prima pagina dell'osservatore romano con la data del 23-24 gennaio 2017 Papa Francesco denuncia la piaga della criminalità organizzata e invoca la conversione dei malavitosi contro tutte le mafie il denaro degli affari sporchi è insanguinato e produce un potere iniquo iniziata la conferenza di pace ad Astana spiragli nella crisi siriana gli auguri agli orientali per il capodanno vicinanza ai terremotati colpiti dal maltempo sempre meno acqua dolce un miliardo di assetati per rafforzare la partnership Trump ha colloquio con Netanyahu a